La rotta dei fenici è un sogno, un sogno di poter vivere nel Mediterraneo in pace, valorizzando quello che è il nostro patrimonio, la nostra identità, i nostri prodotti, perché anche la gastronomia fa parte di questo immenso mosaico che è il Mediterraneo. Il Mediterraneo è visto da tutti i punti di vista, come dice Brodell, perché per capire il Mediterraneo bisogna guardarlo da tutti i punti. Nel Mediterraneo non esiste un centro, è una periferia, è tutto centro. Dovunque tu vada ti dicono noi siamo al centro del Mediterraneo. Ecco, questa è la filosofia che è nata all'inizio del percorso che abbiamo avviato nel 2003 e che dopo 15 anni di attività ci porta a essere uno dei 33 itinerari del Consiglio d'Europa, la famiglia del Cammino Santiago, dell'itinerario della Via Francigene e altri, e allo stesso tempo uno dei due itinerari seguiti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, l'altro è la Via della Seta. Come la Via della Seta nel nostro caso si parla di popolazioni antiche, di mercanti, che hanno attraversato un posto del mondo, in questo caso il Mediterraneo, e attraverso questo scambio di idee, scambio di mercanzie, di prodotti, si è creato una coine mediterranea, una comunità mediterranea, su cui si basa il concetto di Mediterraneo nell'immaginario collettivo. Da un punto di vista operativo noi lavoriamo soprattutto su tre temi. Il tema culturale, quindi parlare delle antiche civiltà come base per capire il Mediterraneo di oggi, capire perché oggi noi facciamo tre colledite in questa maniera, perché questo vuol dire essere mediterraneo, questo vuol dire essere americano, questo vuol dire essere celtico, questo vuol dire essere americano. Nel nostro caso possiamo parlare pure di educazione, perché l'educazione che è base di tutte le attività di tipo culturale, parte proprio dal concetto di Mediterraneo come luogo dove imparare modi di essere, modi di vivere. Noi parliamo di pedagogia del patrimonio, perché il patrimonio in qualche maniera ci insegna qualcosa, e anche una pietra ci può raccontare tanto. E poi, conseguenza di questo, l'aspetto turistico, cioè proporre un viaggio diverso, il Metterano è già una destinazione turistica a livello internazionale da tantissimi anni, ma in questo caso puntiamo su un nuovo modo di viaggiare e di conoscere il Mediterraneo, che tenga conto di culture, di tradizioni, di modi di essere, di lingua, ma allo stesso tempo proponga anche modi di affrontare questi temi. Per questo trattiamo il tema dell'interpretazione, interpretazione comunicativa, per cui l'approccio non può essere solo quello tradizionale della visita culturale, in cui una guida ti dice cosa vedere e cosa ascoltare, ma è un approccio che coinvolga tutti e cinque sensi, in cui la gente sia protagonista di questo processo cognitivo attraverso l'esperienza. Turismo esperienziale, di conseguenza, turismo lento, turismo sostenibile, perché dobbiamo guardare al futuro del Mediterraneo e non solo all'oggi, ma anche turismo creativo, una nuova branca del turismo che sta nascendo da pochi anni, da circa vent'anni e che è stata lanciata all'Università di Barcellona al professore Richards e che ha preso sin dall'inizio come esempio la rotta dei Fenici. In collaborazione con la Creative Tourism Network, che è il network internazionale mondiale che si occupa di turismo creativo, stiamo sviluppando dei modelli nel Mediterraneo attraverso dei percorsi limitati nello spazio, che chiamiamo Smart Ways, sono dei percorsi di eccellenza in cui le realtà coinvolte applicano queste metodologie, partendo dal coinvolgimento delle comunità in questo processo di crescita turistica, turistica e culturale direi, e che applicando la Convenzione di Faro del 2005 sul valore del patrimonio per la società sviluppa i cosiddetti Faro Forum. Sono dei gruppi di comunità che sviluppano attività e iniziative partendo dalla coscienza del patrimonio che loro hanno nel loro territorio, quindi una riscoperta del proprio territorio con occhi diversi. Proprio quello che dice il famoso detto non abbiamo bisogno di nuove terre ma di nuovi occhi per vederle, quindi questo è il modello a cui si ispirano reti internazionali che partono da Libano fino al Portogallo e con la collaborazione di organismi come l'Organizzazione Mondiale del Turismo Sociale, la Federazione Europea degli Itineri Storico-Culturali, l'Osservatorio Turistico dell'Isola Europea e delle Camere di Commercio, mettiamo in piedi dei percorsi partendo dalla gente. Si tratta di rivedere anche certi concetti, le figure professionali coinvolte, per esempio puntiamo attraverso un progetto Erasmus, si chiama All Tourist, sulla figura del facilitatore territoriale, cioè di colui che aiuta il territorio a creare i percorsi e le filiere virtuose da proporre al turismo. È un meccanismo a mosaico, sono tanti pezzi del territorio che devono essere messi insieme per raccontare delle storie che la gente può costruire caso per caso, mettendo insieme i temi che gli sono più congeniali. Allora l'appassionato di storia e di cultura seguirà certi percorsi, l'appassionato di costronomia e altri, chi vuole andare così alla ricerca di un'identità del territorio può seguire altri percorsi ancora. Questo spiega anche perché oggi vi abbiamo proposto una serie di esperienze completamente diverse. Siamo passati dal comune di Sambuca di Sicilia, uno dei comuni di eccellenza della rotta, che ha puntato sulla qualità, prima la qualità del recupero del centro storico, un quartiere saraceno, attraverso poi dei meccanismi di premialità, vedi, un borgo più bello d'Italia, bandiere e borghi d'Italia e tutto il resto che ne conseguirà, per cui la comunità partecipa a questo processo di riconquista del proprio centro storico per creare delle opportunità per i giovani. Siamo stati poi a visitare un'azienda agricola dove si applicano meccanismi similari, ma in ambiti diversi, in ambito rurale in questo caso, puntando sui prodotti del territorio, recupero di antiche cultivar, recupero di antichi sapori, trasformazione e presentazione attraverso percorsi didattici di questi prodotti realizzati. Senza dimenticare l'ultimo tassello che stiamo affrontando in questo momento, che è quello del pescaturismo. Infatti trattando temi del mare, la rotta dei Fenici e idealmente il Mediterraneo, le antiche rotte nautiche frequentate dagli antichi popoli, come vengono proposti oggi, il pescaturismo diventa uno strumento di comunicazione e di sintesi attraverso quello che è una tradizione antica quanto l'uomo del prendere dal mare il sostentamento per la propria vita. Ecco, tutto questo vuol dire rotta dei Fenici. I nostri riferimenti a questo punto chi sono? Sono le persone curiose che vogliono affrontare il Mediterraneo con occhi diversi. Abbiamo recentemente realizzato un tour della Sicilia con il mensile plenare, con i camperisti, proponendo una Sicilia diversa, ma lo stesso possiamo fare, come faremo in breve, all'isola d'Elba, lo possiamo fare in Spagna, in Francia, in Tunisia, Malta, in Croazia. Cioè tutto il Mediterraneo a questo punto riacquista una formula che è e diventa un modello di sviluppo, un modello di collaborazione. La rotta dei Fenici a questo punto non è più un itinerario. È diventato un modo di vivere che noi proponiamo a chiunque voglia scoprire un territorio con occhi diversi. E per questo anche che ci hanno contattato diversi itinerari cinesi, curiosi di scoprire come è fatto il Mediterraneo e come è possibile utilizzare questi modelli in altre realtà. in altre realtà. Grazie a tutti.